Ciao. Bentornato al programma tv di oggi con notizie come. Benedetta Rossi si sfoga sul web e si scatena il panico. Il marito Marco spiega ai fan cosa c'è dietro e svela che per lei è un periodaccio. Le star social come Benedetta Rossi, a differenza di quanto capita a chi magari lavora solamente in televisione, non possono permettersi un momento no senza dove dare spiegazioni al proprio pubblico. Chi è abituato, infatti, come lei a condividere con i follower ogni aspetto della propria giornata non mostra solo i lati positivi della sua vita o solo i lavori fatti. Ma tutto ciò che la riguarda. Benedetta Rossi periodaccio. Il marito di Benedetta Rossi racconta un retroscena riguardante il brutto periodo che sta passando la moglie Instagram chiocciola fatto bene in casa Grand Tennis Toscana. It. Capita così che quando una giornata parte male, Benedetta si lasci andare ad uno sfogo e che dunque dia il via ad un susseguirsi di video nei quali deve spiegare il perché abbia avuto una simile reazione. A volte la food blogger spiega il retroscena nel corso della giornata. Una volta che ha recuperato la calma, altre volte lo fa il giorno seguente e quando non lo fa lei, a chiarire il tutto ci pensa il marito Marco. La coppia è molto affiatata e gestisce insieme le attività di famiglia. Sebbene Benedetta sia il volto e la star. Marco è sempre dietro le quinte a supportarla. Darle consigli e gestire le mosse imprenditoriali successive. Sui social, poi, il marito della cuoca più amata d'Italia è sempre presente e dunque è parte integrante dell'attività web della Rossi. D'altronde parte della popolarità è dovuta proprio alla dinamica di coppia che la food blogger mostra su Instagram. Benedetta Rossi, il periodaccio viene svelato dal marito Marco. Saper ridere delle proprie debolezze e dei propri errori è segno di intelligenza e Benedetta riesce a farlo. Dopo lo sfogo, il marito Marco ha voluto fare un video per contestualizzare quanto successo e ironizzare sull'accaduto. Nel breve filmato pubblicato nelle stories di Benedetta, questo fa notare come per una volta che la moglie non se la prende con lui e decide di sfogarsi sui social si scatena un finimondo. Ma cosa ha detto nello specifico? Marco inizia il video spiegando che questo per la moglie è un periodo molto delicato. Dovete pensare che di solito lei se la prende con me, l'altro giorno non ero a casa. Ha fatto lo sfogo sul web ed è successo un casino. Ma pensate che vita che faccio io? La devo sopportare tutti i giorni. Benedetta nega apertamente quello che dice Marco. Professando la propria innocenza. Ma lui imperterrito continua. Pensate che in questo periodo, di loro cos'hai? La pre. La food blogger accetta di rispondere e dice. Ho la pre-menopausa. Sono un po' poco tollerante in questo periodo. Sono suscettibile. Un po' sensibile. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale. Per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. Grazie per aver guardato il video. Grazie per aver guardato il video.